Sarà la RT Comdata Global Network a gestire il servizio call center IMSS, a comunicarlo alla conclusione della verifica effettuata da ANAC è stato proprio l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che affiderà provvisoriamente l'appalto per i servizi di contact center IMSS dell'Aquila alla nuova società. Ma restano incertezze sul futuro dei lavoratori del call center, risposte che la politica aquilana chiede a gran voce in modo trasversale, con il sindaco dell'Aquila per Luigi Biondi e la parlamentare Stefania Pezzopane che chiedono al nuovo gestore di applicare la clausola di salvaguardia sociale. Interviene anche il presidente dell'associazione Lavoriamo per l'Aquila Venanzio Cretarola, alla testa sin dall'inizio di un'avvertenza che partendo dall'Aquila sarà un punto di riferimento per tutto il settore del call center a livello nazionale. Con la proposta di aggiudicazione della commessa del contact center IMSS alla accordata Comdata Network Contacts, scrive Cretarola, entriamo nella fase cruciale di un'avvertenza che per fortuna l'associazione Lavoriamo per l'Aquila ha iniziato dall'Aquila due anni e mezzo fa. Una lotta che ha permesso di ottenere da IMSS risultati importanti che oggi aiuteranno a tutelare l'occupazione degli oltre 500 operatori della sedia aquilana. Tra i risultati Cretarola ricorda proprio la garanzia della clausola sociale di salvaguardia occupazionale anche per il personale delle aziende in subappalto, un aspetto che oggi assume un'importanza ancora più decisiva alla luce delle linee guida sulla clausola sociale che l'ANAC ha approvato il 14 febbraio scorso, spiega Cretarola. Nella determina di ANAC sarebbe presente, secondo l'associazione Lavoriamo per l'Aquila del tutto erroneamente, l'esclusione delle clausole sociali per le aziende in subappalto. Se questo documento, benché non vincolante, fosse uscito prima, avrebbe creato enormi problemi per i 460 dipendenti del consorzio lavorabile.